Benvenuta, Maria Antonietta Rositani. Grazie, Maria Antonietta. Sei la nostra ultima storia di stasera. Sono contenta che tu sia qui perché sei una donna coraggiosa, indistruttibile. E sei qui non solo per te, ma per tutte le donne che devono sapere e imparare a riconoscere quei primi segnali. Parto dalla fine, era il 12 marzo 2019, cioè la fine della tragedia che tu hai vissuto, perché quel giorno tuo ex marito tenta di ucciderti in un modo atroce perché tenta di darti fuoco. Sì, il 12 marzo del 2019 il mio ex marito evade dagli arresti domiciliari, percorre circa 500 chilometri di distanza da Ercolano per raggiungere me a Reggio Calabria e darmi semplicemente fuoco. E' andata così. Che cosa... Da quel giorno, peraltro, hai subito 200 interventi chirurgici. Sono stata per oltre 20 mesi ricoverata in ospedale, lottando tra la vita e la morte, e ho subito oltre 200 interventi chirurgici. E tutt'oggi mi curo per poter andare avanti. E hai voluto raccontare la tua storia, ed è importante leggere questo volume che si intitola Io non muoio, con Emilia Condarelli, che è la giornalista che ti ha cominciato a seguire anche qui in questo studio, ed è poi diventata una tua cara amica. Pensiamo che, insomma, peraltro uscivi e entravi dal coma, no? Sì. Cosa ricordi di quel... Allora, guarda, io ti posso dire questo. Io non muoio, si chiama così non per caso. Perché quel giorno, quell'uomo, mentre mi lanciava la benzina addosso, mi disse muori. E io correndo risposi, no, io non muoio, torno dai miei figli. Chi ti cosa ti dava questa certezza che non saresti morta? La voglia di vivere, la voglia di vivere, la voglia di non abbandonare i miei figli. Questa. E ti posso dire che durante la mia adeggenza in ospedale, a farmi credere che potessi andare avanti, è stato mio padre. Carlo. Mio padre non mi ha mai abbandonato, mio padre è stata la mia voce, quando io voce non ne avevo. Peraltro, quella mattina tu avevi saputo che il tuo ex marito era evaso da domiciliari e che stava venendo a cercarti per ucciderti. Parliamo di Raggio Calabria, lui era a domiciliare a Napoli, no, la prima casa di famiglia. Stavi andando proprio dai carabinieri, quando improvvisamente... Lui mi ha dato fuoco, ma... Ti ha speronato l'auto? Mi ha speronato, ma tu devi sapere che io nel momento in cui seppi che lui era evaso, chiamai la polizia chiedendo aiuto. Ma loro si dovevano accertare di quell'evasione e pertanto mi dissero di farmi un giro in macchina. Io non volevo girare in macchina, ma sempre da loro volevo andare. Ma l'unico posto lì vicino era nel comando dei carabinieri. E allora ho preso il cuore, sempre con la macchina sono andata verso la stazione dei carabinieri più vicina. Ma lui mi speronò, mi diede fuoco. Lui ha buttato il fuoco e le ha buttate la benzina dal... Prima la benzina in macchina, poi la macchina era speronata, io non potevo uscire, l'unica via d'uscita era affrontare lui. Quindi aprire lo sportello dove c'era lui. Ma io avevo voglia di vivere, una grande forza... E ti sei buttata in una pozzanghera? Alla fine lui mi ha dato fuoco, mi disse muori. Io gli dissi non vai dove i miei figli, ma c'era una grande pozzanghera. Io ricordo la felicità nel vedere quell'acqua. Ringraziai Dio, ho bevuto di quell'acqua. E poi la corsa in ospedale e la lotta alla vita. E oggi dico io ci sono, però non ti nego che mi sento un grande peso. Il peso di esserci e quindi il peso di portare anche le voci di tutte quelle donne che voce invece non ne hanno più perché non ci sono. Anche perché tu sei qui, sei forte, anche se i problemi ci sono, perché ovviamente questo terribile tentativo di omicidio ti ha causato una serie di conseguenze. Ustioni a oltre il 75% del corpo. E quindi ovviamente hai una pensione di invalidità, ma insomma comunque la vita non immagino che non sia semplicissima. Hai due figli meravigliosi, sei diventata nonna. Però è importante raccontarlo perché i segnali che tu hai avuto sono i segnali che hanno avuto tutte le donne. È sempre la stessa storia. Che spesso non ce l'hanno fatta. Perché adesso tuo merito è stato condannato a 17 anni e 8 mesi, però dobbiamo dire che c'è stato un tempo in cui tu pensavi che lui ti amasse. E infatti... Avevi 20 anni? È proprio questo. Avevo 20 anni, ero innamorata di lui. Purtroppo lui è stato violento sin da subito, proprio come racconto nel libro, no? Però pensavo anche che quello facesse parte dell'amore. Quell'amore di protezione che ha anche violenza, che ti fa sembrare quasi di essere al centro dell'attenzione proprio perché sei amata. Perché la sua possessività tu la scambiavi per amore? Sì, allo stesso tempo io volevo essere la croce su a Rossina, con lei che poteva cambiarlo. Ed è proprio per questo che io con questo libro ci ho messo il cuore affinché non ci siano più altre Maria Antonietta. Si possa veramente aiutare a prevenire. E come si previene tutto questo? Se non dialogando, se non abbattendo anche dei pregiudizi. Una donna spesso non chiede aiuto anche perché ha vergogna. Tu non hai chiesto aiuto. Io purtroppo non ho chiesto aiuto prima, ma quando l'ho fatto l'ho gridato al mondo intero, felice di aver aperto gli occhi. Perché andando sul... Cioè, tu racconti... C'è stato un primo schiaffo. Sì. Lui poi ti chiede perdono. Eravate ancora fidanzati, tu pensi lo salverò. Sì, penso che può succedere in quel momento, ho pensato. Diciamo che non può succedere. Non può succedere. Quindi se arriva la violenza fisica... Subito non si deve mai pensare che quel gesto possa essere giustificato e che quindi non ce ne siano degli altri. Quello è l'inizio. Poi ti sposi, il tuo matrimonio lo racconti come un matrimonio da favola e poi per 20 anni... Pensavo fosse da favola, lo volevo far sembrare così. Ti sei anche costruita un mondo che non era reale, secondo te? Certo, la paura, la vergogna anche di dover... Vergogna di cosa? La vergogna è quella che... Allora, te lo spiego subito. La vergogna è quello che una donna quando deve ammettere, no? Di subire una violenza, quindi di aver fallito e allo stesso tempo di marchiare la famiglia. I figli, no? Con un marchio molto forte. Ma non parlavi con nessuno? Io no, all'inizio no. Non parlavo, avevo paura e pensavo... Avevo paura anche del giudizio. Il giudizio di chi? Il giudizio delle persone, il giudizio di tanta gente che dice ma forse ha fatto qualcosa se l'è cercata. Qualunque cosa la donna faccia non si giudica, non si può mai pensare che si possa arrivare a dover subire violenza. E questo giudizio, chissà che cosa ha fatto, tu l'hai sentito? Ma sì, certo. Ma c'è stato. C'è stato da tante persone che dopo che io ho denunciato, quindi finalmente ho aperto gli occhi. Grazie a mia figlia. Perché tu devi sapere che io si ho denunciato e grazie ad Enni. Enni si mise dinanzi al padre durante un momento di litigio. Eccole qua, che belle che siete. E tu pensai, lei disse al padre, ora basta papà, te ne devi andare. Che cosa è successo? Al dire questo il padre gli ha dato uno schiaffo. Io vidi, in lei, il sangue scorrere sul viso. E mi apparse tutto come se fosse un film. Il film della mia vita. Allora lì ho capito davvero che l'amore non era quello che quell'uomo provava per me. Ma era quello che provava mia figlia per me. E quindi quello era l'amore. E allora ho avuto il coraggio di chiedere aiuto e di denunciare. Però non ti nego che anche quella sera, quando chiamai, ad arrivare in casa fu un maresciallo che mi disse Sì, però uno schiaffo a una figlia ci può stare. E allora l'indomani andai di nuovo e sporsi la denuncia. Da allora però che cosa succede a una donna che torna a casa ha paura? Paura che l'uomo lo sappia, paura di avere i minuti contati. E così è, lo è stato anche per me. Ho sopportato per altri venti giorni, sempre fino al punto che mia figlia Enni, una mattina dopo una lunga notte in sonno, esce di casa e chiede aiuto. E allora arrivano finalmente la polizia e coglie lui nella fragranza del reato e lo arresta. Perché lui ti stava picchiando. Sì, e ad aprire la porta fu proprio mio figlio. Sì, ma sai, anche un'altra cosa, lui è stato anche arrestato, ma poi è stato mandato in libertà con il divieto di avvicinamento. Ma sai cosa ha fatto? Appena è uscito dal carcere mi ha bussato a casa. Lì allora chiamai di nuovo la polizia e l'hanno arrestato sotto casa. E poi è andata a domiciliare. Ai domiciliari, tranquillamente, senza braccialetto elettronico. Ha fatto quello che ha voluto. Cioè ha avuto il tempo di progettare il mio omicidio. Non ha avuto fortuna però, perché io ci sono. Quei momenti orribili ti sono tornati nella tua testa oppure li hai cancellati? Allora io non potrò mai cancellare quei momenti. fanno parte di me e fanno parte di me nel cuore. Ormai sono impressi anche nel mio corpo. Però ho tratto anche tanta forza da tutto questo. Ho ricevuto amore da tantissime persone. Oggi penso di avere, tra virgolette, una missione. Ed è quella di poter aiutare gli altri. E me lo auguro con tutto il cuore, perché vedi, l'amore mi ha salvato. E l'amore ne ho avuta tanta. Quel giorno quell'uomo mi disse di morire, ma io in realtà sono rinata. Sono rinata più forte, più consapevole di prima, con la missione veramente di aiutare gli altri. Spero che questo libro possa aiutarmi a far finalmente parlare. Parlare, entrare nelle scuole, entrare nelle famiglie, sai, anche a tavola. Quando un figlio dice, sai, oggi abbiamo parlato di questo, mamma, papà. Quindi far aprire quel campanello che forse, Maria Antonietta, può essere anche in casa tra di noi. E non aver paura di aiutare. Hai perfettamente ragione, Maria Antonietta. Perché oggi sai che si pensa, e ci tengo a dirti questo, si pensa in tanti di dire, no, ma chi ce lo fa fare? Facciamoci i fatti nostri. Mai. Mai, mai. Parlare e aiutarci. Grazie davvero. Ci vediamo sabato e domenica prossimi. sempre alle 8 e 15 e alle 8. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.